Ho saputo di più che non volevo evalermi l'ordevo per fargli farciermi l'uomo da mio Ma può pensarci anch'io perché al fetto al marito per me stessa sarebbe un buon partito E gli è costante e velo, vuol far con tutto il bello e ha tre donne in un giorno e gli ha promesso Ma con loro GD non fa lo stesso